Ciao, eccomi con un nuovo video nel quale vorrei parlarvi a breve cosa mi piace usare di più nel mese di settembre. Se guardate un po' i miei video notate forse che uso pochi prodotti cosmetici però senza rinunciare a certi piaceri e provando di consumare il meno possibile però in una maniera molto sostenibile per cui prima di comprare un prodotto penso più volte e se guardate il video appunto notate che quasi tutti i prodotti che sto usando mi vanno bene. Sono pochissimi con i quali non mi sono trovata bene dai miei acquisti, dai ultimi acquisti degli ultimi anni. Comunque ho avuto una molto piacevole esperienza con l'ultimo deodorante della Green Natural, per me è uno spreco di soldi perché alla fine non fa per niente il suo lavoro. Invece se parliamo del deodorante Radivera, questo è della Basic Sensitive, devo dirvi che mi trovo molto bene sia io che mio marito. Allora se parliamo della mia sudorazione non credo che mi interessa tanto questo argomento, però comunque devo dire che gli ultimi anni sarà per la gravidanza, per l'allattamento, ho usato poco e per cui non ho usato quasi mai diodorante. Poi essendo tanto in casa mi lavavo spesso magari la zona e non avevo neanche bisogno. Adesso non so, saranno gli ormoni, sarà il periodo così, però solo di più e ho bisogno davvero di un aiutino, perché già si sentite anche che è cambiato anche il profumo del corpo. Comunque con questo mi trovo bene e all'inizio c'è solo un piccolo fastidio, si sente un po' l'alcol, per cui sicuramente dopo la depilazione non va bene usarlo, ma mai fatto io sinceramente non metto niente dopo che mi faccio le ascele e va bene così, però ho provato appunto per vedere come reagisce l'alcol e si sente veramente. Una nota molto piacevole è il fatto che si sente l'alcol all'inizio quando si apre la confezione, però vedete già ormai siamo arrivati qua. Usandolo si scarica, questa profumazione rimane molto piacevole. Io lo promuovo. Vediamo a che conclusione arrivo alla fine della confezione. Ho provato un paio di volte, vedete il sapone liquido del Dr. Brandner. Non avrei comprato un prodotto americano se non fosse per la confezione così piccola come la da portare in giro, perché non sono tanto io per le confezioni riciclate nel senso, una volta venita una confezione piccola comunque io la uso una volta non di più, perché credo che dopo tutto il tempo, a contatto con l'aria, la confezione va sterilizzata, va disinfettata, se no ci sono troppi germi. Per cui quello che avevo in casa ormai sono riciclati nel senso ho fatto la raccolta differenziata e mi sono trovata sull'Ecoverde. Io faccio una volta all'anno l'ordine su questo sito quando ho il bono del compleanno di 5 euro, per cui l'ho sfruttato e ho fatto un piccolo ordine, sempre arrivando a 40 euro per non pagare le spedizioni. Sono poticchia magari, però quando posso risparmiare io preferisco. Allora, un ottimo sapone, sapone neutro che ho usato sia sulle mani che sul viso, mi trovo bene per adesso, le primissime impressioni sono. Basta veramente poco, come dicono tante ragazze, e fa una schiuma delicata e lava molto bene, la sensazione che rimane sulle mani è piacevole, però nello stesso tempo dà la sensazione di pulito, mi piace. E poi se parliamo della profumazione, non è un neutro che sa gli ingredienti, ma è un neutro piacevole, per cui lo promuovo, costa 3,60 euro per o meno, così. Per me è un bel acquisto. L'ultimo prodotto di oggi è il Benecos, la super matita labbra. Vi lo faccio vedere, non so cosa riusciate a vedere, è un rosso molto piacevole, leggero, mi ha stupito tanto la consistenza sulle labbra, non si sente per niente, però nello stesso tempo lascia le labbra belle idratate. Non l'ho messo oggi, ho solo puro cacao, però piccoli dettagli, ho fatto i baffetti la seconda volta nella mia vita, per cui sarò un po' rossa, e ho detto è inutile che vi faccio vedere il prodotto su una zona che sta soffrendo un po' in questi giorni. Però è promuoso appunto per la profumazione, per la consistenza, e poi il prezzo, sappiamo bene che c'è un rapporto bellissimo tra la qualità e il prezzo. Io lo promuovo e credo che lo comprerò anche per mia mamma, perché quando l'ha visto è rimasta molto stupita dalla qualità del prodotto. Bene, per oggi era tutto, fatemi sapere se avete usato qualcosa di quello che vi ho fatto vedere o se avete un'alternativa migliore di questi che vi ho presentati oggi. Io vi ringrazio di avermi dedicato il vostro tempo e vi aspetto al prossimo video. un buon weekend al gruppo, ciao ciao! Ciao!